Gentili telespettatori buona giornata, gradimento per governo e presidente del consiglio. Vediamo che nei confronti del governo Meloni i voti positivi rimangono al 41%, quelli negativi rimangono il 48%, non sanno l'11%, l'indice di gradimento rimane al 46%, mentre per Giorgia Meloni sale di un punto dal 41 al 42% e anche i voti negativi salgono di due punti dal 46 al 48%, non sanno 10%, l'indice di gradimento per Giorgia Meloni rimane al 47%. Se poi vediamo i leader politici abbiamo in testa Tajani che sale al 34%, Conte al 31%, Salvini 25%, Schlein 24%, Lupi 21%, Fratoianni 21%, Bonelli 19%, Maggi 19%, Calenda 19%, Matteo Renzi 14%. Grazie a tutti, arrivederci a presto.